ragazzi iscriviamoci al canale una cosa molto semplice da fare non la costa nulla iscrizione al canale clic e personalizzate la campanellina se vi fa piacere altrimenti amici come prima non ci sono problemi si parla lo stesso di calcio ma visto ci sono tantissimi utenti nascosti che seguono questo canale cosa intendo per utenti nascosti che seguono live e video ma non si iscrivono iscrivetevi non siate timidi iscrivetevi al canale non vi succede nulla non vi arrivano fatture a casa da pagare non si chiede nulla qui è tutto gratis fate bobis l'ultima perla dei fuori classe l'ultima perla dei fuori classe è che praticamente Zhang fornirebbe le garanzie a O3 per ridiscutere un peak bond che poi è quasi impossibile ridiscuterlo ora perché deve arrivare a scadenza e poi saldarlo o comunque passiamo anche a quella che il peak bond è fatto apposta per essere saldato in un'unica rata e viene fatto è scontato dirlo poi domani gli spiegheremo bene anche questo viene fatto quando a livello economico sei alla frutta e quando c'è una vendita di mezzo solo in quel caso viene fatto un peak bond comunque le ultime perle dei fuori classe leva la maglia dalla Daya perché guarda c'ho già il numero impostato basta fare un click stai attento allora le ultime perle dei fuori classe parlano degli introiti futuri del prossimo mondiale per club come all'epoca dicevano della superlega ora sono passati al mondiale per club e il nuovo stadio ormai certo però non dicono quali soldi faranno il nuovo stadio se lo faranno con i Lego questo stadio o quant'altro quindi loro continuano a dire cose che non esistono ma soprattutto continuano a buttarti lì delle robe astratte perché il nuovo stadio servono garanzie finanziarie vedi la Roma e vedi il Milan per fare uno stadio servono le garanzie finanziarie del maggior azionista al general contractor e all'ente pubblico punto e Zhang non le ha poi per quello riguarda tutti questi soldi che lui potrebbe dare a garanzia del mondiale per club del 2025 innanzitutto bisognerebbe arrivarci da qui a 2025 e da qui a 2025 ci arrivi perdendo altri 150 milioni perché l'Inter ad oggi perde molto meno rispetto a due anni fa ma è comunque un'azienda chiamiamola così che la perde 8 milioni al mese quindi di cosa vuoi ragionare ma di cosa stai ragionando poi da qui a 2025 come ci arrivi? anche qualora allora facciamo un esempio Zhang di finanzia ad oggi il tasso di interesse è un 12 composto quindi è un 12 che con l'andare del tempo si è trasformato circa in un 15 i nuovi tassi di interesse sarebbero dal 20 al 22 quindi questo cosa vuol dire? vuol dire che l'Inter avrebbe dai 40 circa che ora il tasso di interesse passerebbe a 65 milioni e 70 all'anno di tasso di interesse quindi solo per pagare gli interessi dovessi vendere un barello all'anno e i debiti aumentano quindi da qui a 2025 l'Inter dovrebbe vendere due giocatori per cercare di pagare le spese vive con un debito poi che ormai non è più sostenibile tra l'altro tutti questi introiti che Zhang darebbe a garanzia sono i seguenti praticamente chi vince il mondiale per club in tasca 100 milioni ma chi vi partecipa e basta ne prende 25 o 30 con 6 partite in un mese poi per vincere il mondiale per club dove vuoi andare? con questa squadra in Italia sicuramente ti fai valere forse anche di più non ti dico puoi dettare leggi con questa squadra nel campionato italiano ma se te vai al mondiale per club con questa squadra cioè la dovrai rinforzare quindi se vinci il mondiale prendi 100 milioni e cosa fai? rinforzi la squadra per fare che? per ripagarti i giocatori e poi? oppure rinforzi la squadra vinci il mondiale per club e paghi gli interessi del prestito e saranno 70 milioni che sarebbero perché una cosa non accadrà mai cioè vi rendete conto di cosa stiamo ragionando? le garanzie non ci sono le stesse garanzie sono servite per il primo prestito non basterebbero più ora servirebbero altre garanzie che non esistono ma domani ve lo spiegherà chi di dovere ragazzi domani sera ore 22 non mancate alla live voglio segnalare un giocatore ne parlavano il mio amico Michele che saluto saluto anche Francesco Marvulli ciao Francesco che su Twitter spesso ci divertiamo non lo so dove è il cinese sto seguendo un difensore allora a me piaceva tantissimo Schurz quest'estate io ho sperato fino all'ultimo che arrivasse ma insieme a Schurz stavo seguendo anche un altro difensore sempre del Torino che è Alessandro Buongiorno che ora quando fa il gol fa finta di bere il caffè ecco allora innanzitutto a Schurz gli auguro non una pronta guarigione di più però dopo un crociato di comunque 6-7 mesi fermo cioè se te mi dici prendiamo un difensore centrale ora perché io ti voglio ricordare che l'unico difensore bravo e forte in marcatura è a Schurz Alessandro Buongiorno assomiglia molto ad a Schurz perché è un metro e novanta quattro forse un po' più alto di a Schurz è un giocatore veloce ha un ottimo posizionamento è mancino è forte di testa è veloce nei recuperi e dà un'uscita palla al basso quindi ragazzi mi sento di dire che Alessandro Buongiorno a molti di voi potrebbe risultare strano ma a voi vi risultava strano non a voi ragazzi parlo ad altri vi risultava strano anche quando vi dicevo prendiamo Turammi infortunato e lasciamo correre la Lazio a voi vi risultava strano quando dicevo Gosens lasciamolo all'Atalanta a voi vi risultava strano quando dicevo Vidal e lasciamo la Barcellona perché gioca in una squadra dove suda la palla e gioca solo un tempo se viene all'Inter con parrucca a fare i vieti tra ma c'è troppo fa la botta a voi non parlo a voi mi seguite parlo ad altri mi risultavano strane tante cose come quando ti dicevo che Carlos Augusto era un grande giocatore prima di arrivarsi all'Inter e tante altre senza stare lì a lodarmi perché non mi piace io ti dico che Alessandro Buongiorno del Torino mi sembra una classe 99 o 2000 è un grande giocatore questo ragazzo mi piace e spero che venga all'Inter so che l'Inter lo sta seguendo c'è Coso lì c'è Cairo quello nostro amico Cairo che infatti ha visto talmente amico anche che Bremer poi l'ha dato alla Juve ma a parte quello spero vivamente questo giocatore possa entrare in maniera seria in orbita Inter perché è un difensore che a me piace tantissimo ora ragazzi non è più come vent'anni fa il difensore ora puoi trovare rispetto ma quando giocavo anch'io venti una ventina di anni fa ora li trovi questi pennelloni di un metro e novanta cinque sono veloci perché prima il difensore di un metro e novanta cinque era tipo Bissek parliamoci chiaro il Bissek è un metro e novanta quattro ma è lento questa gente veloce che scappa all'indietro forte con la palla ha un personalità quindi buongiorno per me è un grande giocatore iscriviamoci al canale attiviamo la campanellina mi raccomando io non lo so dove è il cinese ma a te domani sera alle ventidue vieni in live ciao Vinter grazie a tutti